Possibile che il Comune di Patti abbia inserito l'ex sede della scuola elementare di Tindari tra i beni alienabili è possibile quanto inaudito. In attesa che qualcuno si sollevi, ma comunque prima che accada l'irreparabile, si è attivato il consigliere di Patti, futura Filippo Tripoli, ha chiesto che la sede dell'ex scuola elementare di Tindari venga cancellata dall'elenco dei beni alienabili del Comune di Patti. Tripoli, preoccupato del fatto che possa finire in mani private, l'immobile che nella facciata esterna contiene la famosa ode Vento a Tindari del premio Nobel, Salvatore Quasimodo, ha ricordato come lo scorso anno l'ex assessore al turismo Achille Fortunato avesse dato rassicurazioni, sempre a seguito di una sua mozione, sulle sorti della struttura. Nessun finanziamento pubblico né una fondazione hanno protetto l'immobile di Tindari e ora, scrive ancora Tripoli, si vuole procedere a rimpinguare le già svuotate casse comunali, vittime di una politica per niente lungimirante e dello spreco che mettono a nostro avviso a serio rischio la svendita di beni preziosi come questo. Questa struttura è preziosa e non può essere destinata come un bene qualunque immediatamente svendibile. Potrebbe essere sede di un museo della fotografia dedicato a Salvatore Quasimodo coinvolgendo gli istituti scolastici cittadini. Una proposta che ha riscosso pareri favorevoli in diverse occasioni tra la gente. Ecco perché deve essere tolta dall'elenco dei beni alienabili e destinata al museo fotografico oppure ad un'attività che valorizzi la struttura e arricchisca il patrimonio culturale cittadino.